A Torino tre giorni di confronto sulle prospettive delle ferrovie del futuro, dall'innovazione tecnologica nell'alta velocità alle difficoltà del trasporto pubblico locale. Buonasera, da oggi all'Ingotto Fiere di Torino Expo Ferroviaria 2014, 280 espositori da tutto il mondo fanno il punto sulla mobilità su rotaia in mostra alle innovazioni di un settore strategico e non si parla soltanto di alta velocità. C'era Dario Morigone. Alta tecnologia, i treni del futuro prossimo come l'ETR1000, il Frecciarossa da 350 km orari, all'Expo Ferroviaria 2014, gli addetti al settore e gli appassionati del mondo dei treni possono toccare con mano le innovazioni, innovazioni di cui avrebbe bisogno anche il trasporto pubblico locale. Le proteste dei pendolari sono all'ordine del giorno, così come la nascita dei comitati. Ogni città, piccola o grande che sia, ne vanta uno. E non è un caso che i treni locali siano diventati una priorità nell'agenda istituzionale. Le ferrovie dello Stato ribadiscono il loro impegno. Dei sei miliardi di debito che ha l'azienda in cui lavoro, quattro sono per il trasporto pubblico locale. Un miliardo di euro che dobbiamo avere di credito alle regioni e tre che abbiamo investito. Quindi la mia attenzione dei miei colleghi è almeno per due terzi tutta lì sopra. In attesa dei rinnovi, Soprano ha poi riaffermato l'intenzione di Trenitalia di prorogare i contratti di servizio tra azienda e regioni per mantenere operative le linee produttive per i nuovi treni da destinare al trasporto regionale. Il Piemonte discuterà il suo rinnovo tra nove mesi. L'AD ha ribadito che gli investimenti sull'alta velocità si ripagano da soli, ma un trasporto pubblico locale ed efficiente senza l'apporto dello Stato è impossibile. Si può fare il trasporto pubblico locale senza fondi pubblici. Questa è una favola. Pensare che una metropolitana o un servizio, un treno, quello che gestiamo noi, che ha un carico medio nei momenti drammatici anche di mille persone e quindi male si sta male, ma nella media complessiva stanno sotto le cento persone. Quindi è un servizio, allora che faccio? Tagliamo i treni, le ore che sono vuote? Non diamo il servizio. Quindi in tutta Europa più di due terzi dei soldi che prende, della remunerazione che ha un gestore, arriva dal committente pubblico.